Abbiamo trascorso un'ora ragionando su turismo e cultura con i massimi esponenti delle università americane e l'Accademia Americana a Roma. I temi erano chiaramente decisivi per il futuro della città, per il futuro di Roma, per il futuro degli architetti e dell'architettura. Abbiamo lanciato un'idea, abbiamo ragionato su un nuovo modo di vedere il rapporto tra turisti e cultura. Il risultato è un turismo lungo piuttosto che un turismo lento. L'Odine degli Architetti di Roma cercherà attraverso le proprie attività, i propri mezzi e i propri consiglieri di rafforzare il rapporto con le istituzioni che rappresentano la cultura a Roma, la cultura in questo caso americana nella città eterna e il nostro obiettivo sarà quello di relazionarci sempre più in maniera culturale e propositiva per costruire un turismo di qualità e, ripeto, un turismo lungo, di lunga durata e di efficacia sulla popolazione e soprattutto sugli iscritti dell'Odine di Roma. Grazie